Quello dei parcheggi è stato uno dei temi caldi emersi dal Consiglio Comunale di lunedì sera. Un'interrogazione del consigliere dei Fratelli d'Italia, Daniele Malandrino, ha infatti acceso un riflettore sui sette posti auto che sono stati sacrificati in via della liberazione per dare risalto all'opera di pittura muraria dedicata a vittime e eroi del Covid inaugurata lo scorso giugno sulla parete della caserma di fronte all'ospedale San Salvatore. L'assessore comunale all'operatività Enzo Belloni ha risposto negativamente all'interrogazione dicendo che i sette posti auto non saranno ripristinati, verrà lasciato risalto al murale ma la Giunta al contempo rilancia con 120 nuovi stalli da realizzare in una area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria, ovvero quella sottostante al cavalca ferrovia inserita fra l'attuale parcheggio di Porta Cappuccina e la stazione stessa. Un nuovo parcheggio che ha fatto sapere Belloni sarà realizzato nel giro di un paio di settimane. Un'area a servizio del centro storico della stazione e a breve distanza dall'ospedale. Una risposta che però non ha soddisfatto Malandrino che ha stigmatizzato un errore di valutazione nel togliere ulteriori posti auto da un'area strategica come via della liberazione dopo che poche settimane prima ne erano stati sottratti altri da Piazzale Cinelli di fronte all'ingresso dell'ospedale.